Domenica 12 gennaio, ore 18, pre-partita di Napoli-Cremonese, mancano di fatto 2 ore e 45 alla partita, ma come vedete questa è la situazione a fuoricrutta all'esterno dei settori curva B, superiore e inferiore, la folla e la fila ai botteghini è immensa, ovviamente ai tornelli, mi intendevo, è immensa, c'è tantissima attesa per una partita contro l'ultima in classifica, che però vale tantissimo in chiave, scudetto, guardate quanta gente c'è e i canciari dovevano aprire alle 17.30, però in molti casi non sono ancora aperti, vedete quanta gente c'è, davvero assurdo cosa sta accadendo, ha di fatto 3 ore alla partita, quindi vuol dire che l'entusiasmo per questo Napoli è davvero clamoroso, passano adesso anche varie macchine nella polizia e quant'altro, e quindi è questa l'attesa che sale per Napoli-Cremonese a 3 ore, tutte immagini live su CalcioNapoli24.